L'Associazione Bambini Curiosi e Genitori Fantasiosi è un'associazione socioculturale formata da genitori e da bambini e insieme vogliamo un pochettino svegliare questi ragazzi della provincia per dargli qualche possibilità in più. E uno dei nostri progetti è stato questo concorso indetto con Ottima Italia dove i bambini si sono confrontati, hanno dovuto trovare un tema per le loro fotografie, si sono scontrati per avere i voti e oggi in questa serata di premiazione abbiamo visto la soddisfazione sui loro volti per i risultati ottenuti. Ottima è una società unica nel suo genere, qualcosa che nel sud Italia non si era mai visto e abbiamo pensato che portando i ragazzi a visitare gli uffici di Ottima Italia potessimo dargli un po' uno spunto per credere in qualcosa, per fargli capire che volendo fermamente qualcosa e impegnandosi c'è la possibilità di realizzarlo anche a Napoli. Bambini curiosi è un progetto che rientra all'interno delle iniziative di Ottima nel campo della formazione. Dopo Optima Erasmus rivolto all'università, dopo essere stati a Scampia e aver incontrato ragazzi delle scuole superiori, oggi Optima si trova qui a Sorrento per incontrare i bambini delle scuole elementari e medie, sempre alla ricerca di progetti che promuovano la creatività e il talento.